Questa polemica che sta uscendo adesso sulla pista da Bob. Alle Olimpiadi c'è anche il dressage. Io sono ambientalista, però il discorso è o fai un lavoro o non lo fai. Quando le fai, le devi fare e le devi fare al massimo. La pista di Bob per me è una cagata, è vero, ma quello che ha proposto adesso Zaya è andiamo a farla a Innsbruck, ma è una cagata ancora più grossa. In questo caso è una missione di incapacità.